L'Università di Teramo ospita la prima edizione del premio Carmine Rodomonti, istituito dall'Associazione Amici del Calcio Teramano, per ricordare un personaggio che ha fatto storia a Teramo, arbitro e direttore sportivo di livello nazionale. Chi era Carmine Rodomonti? Carmine Rodomonti era un grandissimo dirigente sportivo che ha prestato la sua opera sia nel mondo arbitrale che nel molto calcistico. Ha cominciato come arbitro, è stato uno dei fondatori della sezione arbitri di Teramo unitamente al compianto dottor Basile. Ha formato generazioni di arbitri, è stato lui stesso uno dei più grandi protagonisti come categoria raggiunta, infatti ha arbitrato in Serie B. Per questa prima edizione il premio Rodomonti andrà a Giorgio Rumignani, giocatore ed allenatore che ha condiviso tante pagine importanti del calcio teramano. Che significato ha questo premio? Questo è un premio che si innesta in tutta una serie di iniziative che la nostra associazione, noi amici del calcio teramano, ha inteso promuovere per evidenziare quelle che sono state le eccellenze del calcio teramano. C'è i personaggi che hanno dato lustro alla nostra città sotto il profilo dello sport calcistico e tra questi sicuramente c'è Carmine Rodomonti che è stata una pietra miliare nell'ambito del calcio teramano a tutti i livelli, sia professionistico che direttantistico. Abbiamo inteso quindi voluto ricordare la sua memoria, la sua opera, il suo talento, soprattutto in un momento come questo in cui Teramo necessita di questi personaggi. Il calcio quanto è importante per una provincia, un capoluogo come Teramo? Beh, diciamo è molto importante perché il calcio non è solamente espressione di un'attività sportiva, è soprattutto economia, soprattutto immagine, soprattutto sociale, rapporti, informazione con la stampa, informazione con il mondo della cultura e in questo caso anche con il mondo del lavoro, considerando che la figura del direttore sportivo che noi oggi intendiamo in qualche modo enfatizzare con questa nostra iniziativa è una figura importantissima nel mondo del calcio. Una figura che deve essere leale ed onesta? Sicuramente sì, è il punto di riferimento tra gli sportivi, tra i calciatori, tra il pubblico, la stampa, la società e quindi necessita di grande trasparenza, di grande competenza, di grande capacità e di grande intuito.